Mi è toccato saltare il turno per la quinta munizione, però mi sono sempre allenato, mi sto allenando e sono pronto per la partita di domenica. Sono tutte partite toste e noi sappiamo qual è il nostro obiettivo e dobbiamo cercare di fare i più punti possibili. Sì, ancora siamo in corsa per il famoso terzo posto, ci sono queste partite, ce l'ho scontro diretto domenica prossima, quindi vediamo da qui alla fine quello che riusciamo a fare. Tu è una squadra tosta che ha messo tutte le grandi difficoltà, cercheremo di farci trovare pronti. Io aspetterei la fine dell'anno, quindi con prezzi playoff per giudicare il Pescara, fermo e restando è comunque una squadra composta ad agosto, con tanti cambi a gennaio. Non era semplice, non per cercare alibi, però comunque noi ci stiamo mettendo il nostro e da gennaio penso che il passo in avanti si stia vedendo. Sto cercando soltanto di dare il mio massimo, il mio contributo, perché come ho detto in questi primi sei mesi abbiamo faticato un po' tutti, come era prevedibile, nel senso che è una squadra che non aveva mai giocato insieme, il 90% di tutti i giocatori nuovi, quindi secondo me è stata dettata da questa, le prestazioni non al massimo.